A fame di successi il Team Sic 58 Squadra Corse, presentato in grande stile da Paolo Simoncelli. Alzati veli sulle moto che saranno portate in pista in Moto3 da Riccardo Rossi e Caito Toba e in MotoE da Kevin Zannoni e Kevin Manfredi. Si dice sempre che speriamo di vincere, sarà una bellissima stagione, poi questo è uno sport che è fatto di fortuna, bravura e comunque la fortuna ha un indice altissimo, quindi speriamo bene. Moto3 e MotoE, i due team? Beh dai, quest'anno MotoE abbiamo due moto a differenza dell'anno scorso, la moto è nuova che è tra la Ducati, è completamente diversa dall'energica, a vederla è bellissima, adesso aspettiamo. L'unico mio pensiero è, essendo una moto veramente tanto bella, quando cadono fanno un sacco di danni. Sono molto contento, la moto è molto simile con l'anno scorso, però ho una gran voglia di guidarla, la fine non la vedo da novembre ed è come se non vedo la tua ragazza da novembre, è tanta voglia di stare con lei, quindi ho voglia di iniziare, vediamo iniziare subito, è pronta, è fuoco. L'obiettivo per la stagione? Non mi piace dire il risultato, però io penso che questa stagione sarà molto convictiva fino all'inizio e vediamo di giocarci il campionato. Le sensazioni sono belle, perché la moto è bellissima, quindi non vedo l'ora di provarla, veramente. L'obiettivo per questa stagione? L'obiettivo è quello di stare davanti come sempre, dobbiamo prima partire conoscendo la moto che è molto diversa e poi si vedrà.